L'Unione Sovietica non esiste più, io non sono un nostalgico, penso che l'Unione Sovietica era finita comunque, per altre ragioni, ma il problema non è questo, loro decisero che l'Unione Sovietica non esisterà più, liberi tutti, e gli Erzim per rimanere al potere, siccome avevano paura fottuta che i comunisti ritornassero al potere, che erano in maggioranza, perché sono stati ingannati, vendete l'America, vendete la Russia all'America, tutta l'idea, se vi dovessi dire, quando hanno fatto la privatizzazione della Russia, pensate solo a questo, chi decise la privatizzazione dell'intera Russia, fu un gruppo di economisti dell'Università di Cambridge, che mandarono i fax al governo russo di Gaidara, gli dissero cosa doveva fare, ve lo sapete quanto calcolarono il valore dell'intera Russia, 9 fusi orari, il paese più grande del mondo, con le più grandi risorse minerali e di ogni tipo di tutto il pianeta, dissero, tutta questa roba qua vale 10 miliardi di dollari, a calcolarlo così, e se la sono comprata così, per 10 miliardi di dollari, solo la Yukos, solo la Yukos, la più grande compagnia petrolica del mondo, dopo un anno valera 70 miliardi di dollari, solo la Yukos, pensate, e tutto il reddito, tutto il gas, tutto il petrolio, tutto l'oro, tutta la Siberia, tutta la Yakuccia immensa, la Yakuccia storica, più grande, quasi più grande dell'intera Europa, tutto gli svegliati, la più grande truppa del mondo, superata soltanto l'ultima truppa degli ultimi tempi, quelle che succedono adesso, quelle che si chiama quantitativismi, sapete, producono denaro, la banca centrale europea, però non c'è denaro continuo, adesso temono l'uscita della Gran Bretagna, oggi, in realtà adesso oggi, che arrivo qua, sul telefonino, dice, se la Gran Bretagna esce, la banca centrale europea, la banca di Liglieterra, adottieranno il piede del quantitativismo, produrranno altri miliardi di euro, di euro, degli sterili, produrranno un denaro falso, ragazzi, lo fanno tutti, lo fa la Federa Reserva, lo fa la banca centrale giapponese, lo fa la banca centrale europea, quando dico quindi che la truppa russa del 1991 è stata la più grande truppa del senso scorso, non voglio credere quelle dimensioni gigantesche della truppa del denaro che sta avvenendo sotto i nostri occhi, qui, in casa nostra.